Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti o bentornati sul mio canale. Continuo l'avventura della nostra Rachel e del nostro Ben in quel di Chestnut Ridge. Prima di lasciar il video però vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale e farmi sapere sotto i commenti che ne pensate. Vi ricordo anche che avete il codice attivo Marucco su Pampling. Se passate dal sito guardate perché ci sono tantissime offerte in questo periodo e se utilizzerete il codice Marucco con i vostri ordini avrete le calze omaggio. Detto questo però vi lascio al video e buona visione. E quindi ragazzi si riparte in quel di Chestnut Ridge. C'è il nostro Ben che sta pulendo gli zoccoli al nostro Bri, guardate un po' che bello. E signori c'è un sacco di roba che vi devo dire. Intanto la nostra Bella va in giro e ci sta aiutando con il giardinaggio. Giardinaggio che prosegue dal momento che è autunno. Ha fertilizzato con l'etame di Bri, quello di qualità molto alta, la vite e anche il frutto del drago perché dobbiamo guadagnare. Però ragazzi è successa una robetta e ora vi spiego. Infatti se vado nella cantinetta e la apro, c'è questo lettere di vitalità che è moderatamente invecchiato e vale già 7000 Simoleon. E tanto lo so, ma questo ci permetterà magari di trasferirci in una casa un po' più grande con una serra coperta eccetera eccetera. Pian piano faremo tutto, intanto è ancora in corso la lotteria. Ho comprato tutto con la nostra Rachel e soprattutto siamo poveri. Quindi in questo episodio vorrei guadagnare qualche Simoleon. Intanto il nostro Bri, come vedete, è felice ed è anche bello scalpitante. E soprattutto oggi con il nostro Ben vorrei magari, se siete d'accordo, fare la prima gara. In tutto ciò però ho sentito una notifica strana che non so bene a chi appartenga. Per fortuna gli animali stanno bene. Quindi ragazzi, e anche il nostro Ben, sono le 19. Eh, io proverei a viaggiare ragazzi. E andiamo al maneggio. Nuovo maneggio, ragazzi, l'ho sostituito. Ho messo il parco che ho fatto in speed build, che spero vi piaccia. E andiamo ovviamente con Bri, perché dobbiamo fare un po' di abilità con il nostro cavallo. Prima di cominciare ovviamente a provare a fare le gare. Eccoci arrivati. Eh, qua signori spawnano i cagnetti. Ve l'ho detto, il mio obiettivo è anche quello di adottarne uno. Se anche Rosy ovviamente ha un padrone. E questo è il nuovo parco, che spero vi piaccia. Vi ho fatto vedere lo speed build e qua possiamo tornare anche ad allenare il nostro cagnetto. Ma non lo faremo oggi, perché ovviamente vorrei... Devo prima, giustamente, salire in groppa Bri. Scherzavo. Vorrei, dicevo, montare su Bri e fare un bel po' di allenamento. Eccoci qua. Intanto mi guardo attorno per i cagnetti, ok? E a questo punto esercitati nei salti semplici. Mi piace molto. Oltretutto, ragazzi, guardate che bello con l'autunno. Le foglie che cadono. Mi piace molto questo parco. Vi ricordo che qua possiamo anche prendere un bel gelatino. Basta assumere un venditore per cento simoleum, che non faremo perché al momento siamo poveri. Però si possono fare diverse attività qua dentro. Vedete? Ora vi faccio vedere. Qua si balla. Si fanno un mucchio di robe. E quindi sarà carino anche vedere altri sim come Dwayne. Che ci raggiungono. Guardate un po'. Intanto sta parlando allo specchio. Perché? È stato disarcionato. Me lo sono perso. Spero sia tutto ok. E scusate Bri in tutto ciò. Ma come? Ma Bri, ma ti prego. Ma monta su Bri. Non l'ho visto, ragazzi. Vi ricordo anche che si rischia la morte da cavallo, eh. Speriamo bene. Ok, grazie. Ora Bri mi sembra un po' più propenso a farci salire. Più o meno. Vediamo un po', eh. Ci disarciona. No, no. Ce la facciamo, ce la facciamo. Probabilmente riusciamo, eh. Eccoci qua. Perfetto. Che bello. Che bello. Bellissimo, ragazzi. Guardate un po'. Lui ha un po' di bisogni, ma chi se ne importa. Guardate un po' che bello. Ok, facciamo un po' di allenamento. Ci sta. E ovviamente così aumentiamo l'abilità di equitazione del nostro Benjamin, che dovrebbe arrivare quasi a livello 2. Probabilmente. Vediamo un po', eh. Beh, quasi a livello 3. E anche quella di salto del cavallo. Che sempre ci sta. In tutto ciò, guarda i sim, guardate. Che bello che vengono qua a giocare. C'è anche chi ascolta la musica. Mi pare tutto perfetto. Qua addirittura possiamo aprire. Non possiamo comprare, però, ovviamente, i dolcetti. Eh, io li ho messi, ragazzi, pensando si potesse, ma non si può. E guardate il cane. È adulto. Guardate un po' anche il cagnolino, ragazzi. Intanto livello 3 di equitazione. Guardate che usano tutti i giochi, i cagnetti. Che bello. Ora, speriamo arrivi un cagnetto randaggio, eh. Dovremmo riuscire. Oltretutto, io ho messo all'otto il tratto che permette di allenarsi più velocemente. Mi sembra giusto. Quindi speriamo bene. Oh, ciao. Ma chi è? Teppei. Fermi tutti. Adulta. Che carina. La voglio. La voglio. Pentazione amichevole. Voglio il cane. Guardate quanti randaggi. C'è Sasha. C'è anche Nixon. Oh, bene bene. No, voglio Teppei. Che bello. Con lo squa. Che carina. No, la voglio. Signori, è fatta. È fatta. Tanto aspettiamo che loro si allenino un po'. E poi... Eh, guardate, ci segue. È destino. Ha fame Teppei. No, no. Vai pure. Eccoci qua. Scusa. Intanto Bri, scusami, eh. Ma ti sto cercando una compagnetta. A carezza. Azzuffati no. Offri amicizia. Loda. E dai un dolcetto. Che bello. Ragazzi, assolutamente. Assolutamente lo voglio. Impara a conoscere. Vediamo un po', eh. È una femminuccia adulta. Sì, ragazzi. Ci portiamo a casa Teppei. Ma chi è sto topino? Che carino. Anche lui è un randaggio. No, è Red. Carino. Però no, è stato amore a prima vista con lei. Ragazzi, è stato amore a prima vista con lei. Ce la dobbiamo portare a casa. Assolutamente. Tanto Bri che fa? Beh, va in giro. Ok. A Bri... Beh, Bri gradiva un gelato, probabilmente. Dove va? Va dagli altri. Va ad importunare i cani e la gente. Bri, ma che fai? Bri, l'educazione. Ti prego. Non ti ho insegnato niente. Ti ho preso quando eri un puledrino. Povera Blu. Un blu da bdi da bda. Ma non importa. Noi intanto cerchiamo di farci amico il cane. A carezza. Ok, l'ho mandato in bagno. Fermi tutti che per mandarlo in bagno mi sono perso il cane. Dove sta? Visualizza. Ok. Eh. Ma hai seguito in bagno il cane? Oh! Teppei! No! Ragazzi, impariamo a conoscerlo nel DC del maneggio. Ma possiamo davvero avere una relazione col cane in bagno? E questo è il primo incontro. Io faccio uno screen, ragazzi, perché sì. Eh, io l'ho preso in bagno il cane. Io ve lo dico. Ragazzi è... Eh sì, ci sta. Ci sta. Teppei è Loda. O meno male che ha deciso di andarsene. A carezza. Qua intanto noi abbiamo un po' di fame, un po' di sonno, ma fa niente. Voglio adottarla. Voglio adottarla. Spazzola. Adotta! Eccolo! Ragazzi, torniamo a casa con Teppei. Magari cambiamo il nome. Anzi no, lo teniamo. Non vorrei chiamarlo tipo VC, sarebbe brutto. Però è stato un incontro intimo, devo dire. È venuta a noi nel momento del bisogno. Come dire? Ci ha seguito in bagno e l'abbiamo adottata. Certo, ovvio. Teppei, sei tutti noi. Ora no, manco i soldi per comprarti una ciotola, io ve lo dico. E dove va Teppei? Vedete che fugge? Va già via? No, fermi. Pausa. Impara a conoscere. Ma io ti devo adottare, tesoro mio. Abbraccia. E altre scelte. Addestramento, cura dell'animale. Posso già far tutto? Metti il guinzaglio. Ok. Però in realtà io ti voglio adottare. Grazie. Metti il guinzaglio. Dai, in realtà è già nostra. Probabilmente quando torniamo a casa l'avremo. Questo ovviamente appartiene al cavallo. Quindi, Bri, perdonami, ti ho lasciato solo. Non spendermi si molona le macchinette. La lotteria ha avuto successo, speriamo di vincere. Anzi, speriamo di no, perché ragazzi, con il nettare già a 7000, meglio non avere tanti soldi. Beh, ormai hai preso quello e bevi. E certo, a papà, che fai, te ne privi. Vedete, anche il cavallo è contrariato da tutto ciò. Però a sto punto, ordina il cavallo, no. E cerchiamo di fare monta su, per forza. Invece di lanciare i ferri di Bri, i ferri di cavallo, esatto. Vieni qua e pratica con i barili, grazie. Vorrei andare domani, è tornato in retromarcia, il cavallo. Dicavo, vorrei andare domani a fare la gara. Dovrei poterne affrontare qualcuna. Non la gara migliore del mondo, raggiunto il livello 2 di agilità. Fatemi vedere più o meno le skill del cavallo. Siamo a 5-2-2, resistenza 1. Ecco, in realtà dovremmo andare a fare un giro per il parco o per lo scenario. La resistenza la dobbiamo portare almeno a livello 2. Secondo me è l'unica cosa. Intanto il cavallo è teso, è teso. Senti, teso. Noi andiamo qua, galoppa qui, trotta qui, dai. Così almeno aumentiamo la resistenza. Vediamo un po', eh. Vai pure. Eccolo! Eccolo che trotta, signori! Eh, dobbiamo aumentare tantissimo la resistenza. Perché, ragazzi, non siamo ancora andati a giro troppo con il nostro Bri, eh. Però, che ve lo dico a fare? Tanta, tanta roba. Ok, andiamo a trottare. In tutto ciò adesso ho il dubbio di non aver adottato il cane. Invita nel lotto attuale. Ma il che vada lo invitiamo a casa e ci riproviamo, eh. L'importante è averlo con noi. Eh, qua la resistenza, ragazzi, va fatta. Va fatta, va fatta. E perché no? Visto che siamo nella gola galoppante ed è molto, molto bello come scenario, ma andiamo un po' a giro. Cioè, con Bri noi andiamo fino alla caverna. Guardate che bello con le foglie in autunno. Trotta qui è un bel pezzo di strada. In teoria da qui ad arrivare alla grotta dovremmo anche schillarci, eh. Stiamo sulla visuale. Eccolo che va a giro. Che bello. Bellissimo, ragazzi. Ci sta anche fare solo delle passeggiate col cavallo. E poi mi piace molto questo lotto. Ripeto, potremmo anche tornare qua e addestrare il nostro cagnetto in questa zona. Mi piace il fatto che sia autunno. Ovviamente il festival del raccolto. Quindi dobbiamo anche essere benevoli con gli gnomi in modo tale che ci lasciano dei semi da piantare con la nostra Rachel. Perché dobbiamo anche fare quella roba lì. Guardate la resistenza, ve l'ho detto, eh. Tanto lui è quasi a livello 4, resistenza a livello 2. E ce ne torniamo a casa. Ci occupiamo dei loro bisogni fin tanto che utilizziamo Rachel per fare il giardinaggio. E poi andiamo a fare una bella gara. Ha raggiunto il livello 2 di resistenza. Molto bene, molto bene. E in teoria adesso ci dice che ora Bree si affatica meno con gli ostacoli e i barili. Perfetto. E dovrebbe anche, ovviamente, aver preso un po' di valore. 975 simoleon. Guardate un po' che bello. Qua nel fiume. Lui non ce la fa più, eh, ragazzi. Sto chiedendo troppo al nostro Benjamin. Ma adesso ce ne torniamo a casa, eh. Vedete? Vai, vai. Torna pure a casa. Forza, forza. Lo so che sei stanco. Infatti, Bree va nella caverna. E guarda e dice... Ma l'unicorno poi non spona? Mentre il padrone si è messo direttamente il costume. E sta andando a prendere le vongole per cena. Probabilmente a cena avranno una spaghettata con le vongole. Non lo so, ragazzi. Non mi farò domande. In tutto ciò, il cavallo l'abbiamo mollato lì. Povero, sta dormendo. Ma tranquilli, ora lo richiamiamo a casa. Bree, tranquillo. Tranquillo, ti riporterò a casa. Parola mia. No, ti prego. E io chiamo Rachel. Scusatemi, ragazzi. Perdonatemi. Ma a questo punto... Lui lo manda a casa. E Rachel viene qua. Perché, ragazzi, guardate quanta uva c'è. Raccogli tutto. Eh, ragazzi, dobbiamo fare un bel po' di nettare. Fermi tutti. Me ne approfitto ora. Fintanto che è autunno. Così almeno prendo tutto. Ho fatto anche la rima. Vediamo un po'. Dieci pezzi d'uva. Eh, ragazzi, questo vuol dire tanta, tanta roba. Vuol dire fare un bel po' di nettare. Venti pezzi. Perfetto. E allora... Lei è triste. Perso la lotteria. Ma non avevo dubbi. Infatti chi ha vinto? Dylan. Dylan è stata un'immensa fortuna. Lei è triste per la lotteria. Ma fidati, amica mia. Sono nove anni che ci provo. Ma avessi vinto una volta. Siamo tornati a casa. Bri come sta? Fermi tutti. Fame basso. E allora chiedo, ovviamente, di chiamare il cavallo per mangiare. Poi si arrangerà un po'. Mentre il nostro Ben si sta cuocendo qualcosina. Perfetto. Si sta cucinando. Qua invece non abbiamo niente da fare. Possiamo fertilizzare le piante. Quello sì, però. Uh, il platano è cresciuto. Se anche purtroppo non ci darà frutti. Ma non ci interessa. Perché, ragazzi, è arrivato l'umento di produrre nettare con la nostra Rachel. Eh, ragazzi, lo dobbiamo fare. Fintanto che loro si sistemano. Vedete anche Bri sta finalmente mangiando. Società scarsa. Adesso poi abbraccio un po' il cavallo. Lui invece sta mangiando. Molto bene. Poi te ne vai in bagno. Poi ovviamente dovremmo chiamare qualcuno per pulire casa. Perché non schifo. Ma sono dettagli. E te ne vai a dormire. Molto bene, molto bene. Rachel, invece, fa il vino. Eccola qua. Fa il nettare, ragazzi. Abbiamo un bel po' di uva. Sono contento di non averla comprata. Sapete che già è facile, ragazzi, con il nettare. Quindi vorrei non facilitarmi troppo il let's play. E la pecora è ovviamente intimorita. In tutto ciò sto notando che il cane non ce l'abbiamo. Quindi adesso parte la missione cane. Io ve lo dico, eh. Produci nettare. Fintanto che aspettiamo che Ben un po' si riposi. Poi chiamiamo, nell'otta attuale, il nostro cane. Perché ormai lui è il nostro. E facciamo tutto. Il giardino, invece, si radica la pianta. Non dovrebbe avere particolari cose da fare. Perfetto, perfetto. E il cavallo, in realtà, ha aumentato la socialità con la pecorella. Brava, bella, come te nessuna. Ottimo, ottimo. Rachel è un po' stanchina. Ha un po' di fame. Ma deve tenere botta, ragazzi. E soprattutto questa. Siamo a 13 di 13. Iniziamo a riempire la seconda cantinetta. Che ha all'interno 70. Non ha ancora invecchiato il nettare di patate. E quello nuovo fatto da Rachel. Perfetto, perfetto. Iniziamo a riempire le cantine. E poi venderemo tutto. Venderemo tutto. Qua intanto vado a fare così. Vado a fare un ultimo nettare per ora. Anche perché lei è stanca. Ed è tesa perché sembra tutto un po' più sporco. Quindi poi mangiamo qualcosina. Ok, mangio la bistecca. Questo lo spegniamo, grazie. E poi puliamo un attimo. Vai Rachel, sei tutti noi. Brava. Papà, ultimamente sembra che niente vada per il verso giusto. Cattive notizie. Non si sa cosa si prova. Ma cosa? Ma povera Rachel. Paura del fallimento. Avrà difficoltà a lavorare e a creare oggetti di qualità. Paura del fallimento. E come la ripristino la paura del fallimento? Bisogna capire. Qua intanto buttiamo via questo. Togliamo il topastro. Questo lo levo. E ovviamente vado a farmi anche una bella doccia. Eh, assolutamente sì. Quindi fai una bella doccia veloce. Qua si deve anche radere, giustamente. I peli delle braccia. E anche raditi i peli delle gambe. E poi la mandiamo a dormire. In tutto ciò qua abbiamo un'altra bottiglia di nettare che la do a mettere in cantina. Perfetto. E qua devo capire, ragazzi, come levare la paura del fallimento, eh. Eh, Rachel, dovresti anche grattare il collo. Magari nutri dalla mano. No. Vediamo un po' se col cavallo un attimo si sistema. Ambiente brutto. Come ti permetti. In tutto ciò c'è anche il festival del raccolto, eh. Bisogna capire dove sono sponati gli ignomi. Li vorrei accontentare per avere i semini, no? Tanto Rachel la sonno. La mandiamo a dormire così almeno passa velocemente il tempo. Lui invece si è riposato. E allora butta il cibo avariato. Grazie. Pronto ci sia qualcosa da mangiare. Sì. Ottimo. Poi facciamo una bella doccia. E poi ci occupiamo con lui della missione cagnetto, ragazzi. Della missione cagnetto. Ok. Fai evolvere. Fai evolvere. Perfetto. Stiamo iniziando a far evolvere anche le piante. Buono così. Ottimo, anzi. Rachel sta un pochino meglio. Speriamo di togliere subito la paura. Lui invece era teso. Beh, adesso sta facendo la doccia. E ti prego, restami sul pezzo perché Teppei deve venire da noi. Grazie. Chiamiamo Teppei, arriverà molto presto. Anche perché poi ragazzi dobbiamo prendere tutte le cose per il cane. Ciao. Ah, la mia squaletta di quartiere. Farà conoscere. Altre scelte amichevole. Abbraccia. E poi ovviamente vorrei adottarla, eh. Spazzola. Ragazzi, io voglio sto cane. Cascasse il mondo. È attiva. Oh, bene, bene. Fermi tutti. Eh, ma quanto sei agitata, amica mia. Impara a conoscere. Altre scelte amichevole. Manda a casa no. Io vorrei fare... Vizia sul divano manco. Davvero no. Rincuora. Ma Bri è geloso. Ma Bri è geloso di Teppei. Che carino. No, fermi. Che problema c'è? Certo. Eh, ciao Caleb. Senti, qua non c'è niente da fare. Amico mio. Sveglia Teppei, no? Eh, vabbè. La lasciamo dormire un attimo. La pecora dorme. Il cane dorme. Il cavallo. Igiene basso. E allora fermi. Pulisci gli zoccoli. E spazzola il manto. Eh, per forza. Tanto qua dobbiamo lodare il cane. Vabbè. Fermi tutti. No, signori, però non hai capito il gioco, amica mia. Eh, io ti voglio adottare. Grazie, abbraccia. Eppure mi sembrava di averla adottata, eh. Vabbè. Questo lo prendo qua. Poi vediamo. Scaccia, no? Passeggiata breve. Accarezza con calma. Eh, Teppei, tranquilla. Ce la faremo. Ti adotterò, ti adotterò. Con tanto amore. Tranquilla, Teppei. Ti do un dolcetto. Con tanto amore io ti adotterò. Abbraccia. Altre scelte amichevole. Prima o poi sarai nostra. Impara a conoscere. Qua intanto devo riempire, ovviamente, la mangiatoia. Eh, fermi tutti. Perfetto. La pecorella è da pulire, ma... Ragazzi, aspetto un attimo. Se ne è andato via il cane. Infatti l'ho dovuta telefonare, ragazzi. Ho dovuto chiamarla perché ci sta. Tanto il festival del raccolto è andato male. Fa niente. Il cane probabilmente sta dormendo. Eh, sì, adesso non viene. Vai, non importa. Tanto lei come sta? Eh, sta bene. Dovrebbe solo mangiare e farsi una doccia appena si sveglia bella. Ovviamente andiamo a far tutto. Il nostro giardinaggio per ora. Anzi, in realtà oggi dovrebbe iniziare a far spuntare qualche frutto. Il nostro Ben si sta giustamente rilassando. E vi ricordo, ragazzi, andremo a fare la gara col nostro Bri. Che intanto va a dormire. Tanto lei come sta? Sta bene? È sempre tesa. Vai, ti peli delle gambe e passa la paura. Eh, io proverei a ripararlo. Vado a salvare, ragazzi. Però non abbiamo tutti questi simoleon. E voi direte, mazza quanto sei tirchio. Hai 7000 simoleon. Vero? Leggermente invecchiato, eh. Vi ricordo. Quando sarà invecchiato del tutto, ridiamo tutti. Moderatamente invecchiato. Moderatamente invecchiato. Non ancora invecchiato. Non ancora invecchiato. 7400. Qua invece abbiamo moderatamente, moderatamente e non ancora. Qua invece devo aspettare che siano dannata, ragazzi, per venderli. Moderatamente, moderatamente. Dannata. Oh, il Net Ready Mail lo possiamo vendere. Vedete? Il Net Ready Mail lo possiamo vendere. Apriamo questi. Qua abbiamo invece, non ancora, non ancora, non ancora. Sono quelli nuovi. E non ancora. Ecco. Il Net Ready Mail si potrebbe vendere. E con quei dindini, signori, compriamo la cuccia del cane e tutte le robe. Direi che ci può stare. Tanto Rachel qua vive con i topastri. Perfetto. Brava Rachel. Vai dalla pecorella, svegliala. La chiamiamo anche, va bene. E qua dobbiamo fare, accudisci, pulisci bella e accudisci, nutri col biberon. E ovviamente la tosiamo anche per la lana. Direi che è perfetto. Oh, guardate, finalmente. Vendi i frutti del drago. Raccogli tutto. Sì. Ragazzi, ci dobbiamo tenere anche qualche pianta per quando ci dobbiamo trasferire in una casa che abbia. Ovviamente all'interno una serra. Quindi assolutamente. Tanto lei è stata spaventata dal cavallo. 25, tre frutti del drago ci sta. E l'uva io continuerei ovviamente a fare anche un po' di nettare, ragazzi. Devo capire a che livello siamo. Eh, devo almeno arrivare a livello... Eh, un po'. E qua, ragazzi, possiamo fare quello di fragole e quello di patate. In realtà l'ideale sarebbe arrivare a livello 3. Perché poi lo possiamo fare con la roba della prateria. E lì, ragazzi, è tutto molto più facile. Qua basta raccogliere l'erba della prateria. E secondo me siamo a cavallo in tutti i sensi. E quindi, ragazzi, visto che di cavallo si tratta, intanto che Rachel mi fa tutto... No, prima voglio finire la missione cane. Fermi tutti. Prima devo chiamare il cane. Gradisce la preparazione di nettare? E' nettarmente in vetta. Certo che la prepariamo. Ciao! Ciao, accarezza! E soprattutto, ti prego, prendi un braccio, non mi interessa. Io ti voglio adottare. Abbraccia. Oh, ma sta venendo qua ad aiutarci. È però bella, scusate. Perché non la pulisce nessuno? Intanto Rachel va in bagno e poi ti prego. Occupati di bella. Che, come vedete, ha la felicità bassa. Perché, poverina, è da pulire. Quindi socializza, possiamo fare anche, abbracciala. Ok, ok. Fermi tutti. Tutti sti animali mi manderanno al manicomio. Io ve lo dico. Dove sta il cane? Sentite, sto cane è un cane da riporto. Ci riporta sempre in bagno. Ma vabbè, cioè, io sono contento per te, amica mia. A me va benissimo. Abbraccia, però. Guardate, abbiamo un ottimo rapporto. Accarezza, loda. Qua dobbiamo fare... Praticamente è nostra, solo che non ce la conta l'unità familiare. Ragazzi, praticamente è già nostro il cane, eh. Guardate la relazione. Abbraccia, altre scelte amichevole, altre scelte, spazzola e così via. Infatti Rachel fa la conoscenza, è il buon amico di Tepey. E qua, ragazzi, mi devi mettere... Baccia. Vabbè, anche meno, Benjamin. Cioè, nel senso... Prova amore. Qua, ragazzi, stiamo andando un po' oltre. Io ve lo dico. Prova amore. Ok. E qua ti chiedo... Guardate che bello. Però adesso me la devi far adottare. Che, ripeto, secondo me è adottata, eh. Secondo me l'abbiamo adottata, ma non me l'ha contato. Dico io, ragazzi. Per forza così. Se io ci provo con Rachel... Si ha intenzione di vendere? Sì? Certo, Roby. Certo, Roby. Fermi tutti apri. Questo lo mettiamo qua. Fatemi vedere. Andiamo subito da Roby. Che dovrebbe essere qua da queste parti, eh. Fermi tutti. Eh sì, è venerdì. Quindi vai qui. Perfetto. E aspettiamo Roby per vendere l'unico nettare. Però fa niente. Chiedi della longevità. Ragazzi, ci facciamo dare anche la ricetta, già che ci siamo. Oh, è arrivata anche Sienna. Brava Sienna. Vantati del ranch, no. Ora gli antefatti della mia vita interessano poco. Mi affascina sempre come andare avanti, invece. Eh, amico mio, sbottonati. Sappiamo anche che tu sei l'ex di Agnes. Va bene tutto, eh, amico mio. Però ormai le cose si sanno. Azioni, no. Amichevole attività. Neanche. Altre scelte. Vendi il nettare. Grazie. Eccola qua. Questa in teoria me l'ha contata. Eh, in realtà no. Sapevo questa cosa. Cioè, se le vendete a lui, non le conta nella... Va bene. E allora le venderò dall'inventario. Poco male. Perché in realtà, come vedete, non ce lo conta per, diciamo, l'aspirazione di vita. Peccato. Probabilmente è qualcosa che dovranno sistemare. Eh, ve lo dico, ve lo dico. Qua intanto come va la vita. Da un dolcetto. Impara a conoscere. Baccia. E qua ci ha dato la scatola misteriosa il cane. Sì, ho capito. Grazie, amico mio. Ma tu devi per forza entrare a far parte della famiglia. È per forza, ragazzi. Eh, io qua non posso neanche far niente col cane perché non ho la vasca. Impara a conoscere. Beh, lo spazzoliamo. È già qualcosa. Io sì, ragazzi. Io lo voglio. Cioè, non vorrei che non fosse andata a buon fine l'interazione di adottare. Eppure è strano, eh. Ma non importa. Ma al che vada io lo aggiungo alla famiglia a sto punto. Perché comunque non è un cheat. Alla fine ci siamo impegnati per ottenere il cane. Quindi secondo me si può fare. Si può fare. Per oggi non c'è altro nè. Tre. Intanto ci sono i temporali. Stiamo attenti. E non vorrei che il cavallo... Vi prego. Vai qui. Grazie. Sì, ragazzi. Io vado a fare così. Rimuovi dalla famiglia. Aggiungi alla famiglia. Ragazzi. L'ho fatto. L'ho fatto, l'ho fatto. E secondo me è perfetto. È tesa. Lo so. Adesso per fortuna abbiamo anche un po' di dindini. Ne abbiamo duemila. Ora ci occupiamo di tutti i bisogni. Tu puoi andare anche a mangiare. Il cavallo. Voglio vedere come reagisce al temporale. E ti prego. Non stare qua dove ti può ovviamente fulminare qualcosa. Vedete? Il cane ha fame. Ok. È arrivato il momento, ragazzi. È arrivato il momento di comprare tutto il necessario per la nostra Tepei. Che ci teniamo Tepei come nome. Io ve lo dico. Una ciotolina qui. Una ciotolina qui di fianco. Qua di fianco ci vado a mettere anche questo. Che ci sta. La casa è piccola, ragazzi. Non vedo l'ora di trasferirci. Però per ora ci accontentiamo. Quindi chiedo ovviamente questo di metterlo qui. Lei che fa? Sta cucinando altra roba. Mentre il nostro Ben ti chiedo. Riempi tutte le ciotole per animali. Ottimo. Qua dobbiamo fare tutta la cura degli animali. Rachel sta mangiando e sta bene. Qua intanto buttiamo via. Questo ti aiuto io. Il cane ora sta bene. L'unica cosa. Ha sconfitto lo scogliattolo. Paura degli animali. È pauroso. Qua ragazzi dobbiamo fare una robetta. Per il cane. Qua dobbiamo pulire. E a questo punto se la doccia è rivolta da questa parte. La possiamo mettere anche qua. Di fianco ragazzi io metterei una vasca. Semplice. Niente di troppo complicato. Quanto ci costa la nuova vasca? Beh pensavo peggio. Ok. Mettiamo questa. Così possiamo anche fare il bagnetto al cane. Assolutamente. Fai un bagno a teppei. Tanto Rachel si sta divertendo. Ma chiedo lei di fare un bagno al cane. Già che ci siamo. Così almeno la puliamo. Qua c'è gente che ovviamente viene a distruggere tutto. Facciamo il bagno. Ok. Così almeno il cane è a posto. Qua fatemi vedere le coltivazioni. Pare andare tutto bene. Sì. Per ora va bene. Con la nostra Rachel invece. L'è spaventata. Io farei un altro po' di nettare. Così cerchiamo di arrivare a livello 2. Ma sinceramente vorrei puntare a livello 3. Mentre lui no? Invece di farlo splendido. Ma mangia. Livello 2 intanto. Vai pure a farti una doccia. E a questo punto aspettiamo la notte. Domani si spera. Ma sembra di sì. Sta già smettendo di piovere. Ragazzi domani si va a fare la gara. Ottimo. Questi invece li mettiamo qua. Eh vedete che con gli animali comincia a essere difficile. Ce ne sono tanti. Sono difficili da gestire eccetera eccetera. Bisogna pulire la macchina. Sfogge il lavoro o no? Pulisci la macchina Rachel. Perdonami. E poi ti mando assolutamente a dormire. Anzi. Mando entrambi a dormire. Perfetto. Facciamo fichi fichi. E ragazzi ovviamente siamo ai primi episodi. E per il momento ci stiamo occupando del ranch. Degli animali. Del nettare eccetera. Ma pian pianino poi mi piacerebbe farli sposare. Avere magari un bambino con loro e così via. No. Qua invece ragazzi fermi tutti. Mi sa che non ci arriviamo al bimbo. Cioè nel senso che io gli ho chiesto di far fichi fichi. Lui si è messo a dormire nel cespuglio. Insomma non va bene tutto ciò. Non va bene. Lei è tesa. Fai fichi fichi sotto la doccia. Altre scelte romantico. Affetto. Professa amore eterno. Grazie. E poi ti chiedo di non fare un figlio con Rachel per ora. Ma di far fichi fichi. Ottimo. Perfetto. Il cane come sta? Sta bene. Dobbiamo insegnare lui ad andare a fare i bisogni. E lui è? Bisogno nel cespuglio come estrema risorsa. E l'hai voluto te. Il cavallo invece resta all'aperto. Se anche ha un posto coperto. Non facciamoci domande. Il nuovo tratto della personalità di recente Rachel non si è sentita particolarmente romantica. Anzi piuttosto non flertante. Succede. Effettivamente si sono tutti concentrati sul nettare, sul ranch, cavalli, abilità eccetera. E ci sta un distacco. Mi piace. Accetto il cambiamento. E faremo di tutto per modificare queste cose. Faremo di tutto per farli tornare ad amarsi secondo me. Ha senso. Ragazzi mi piace sto Pepe al gameplay. Tanto però facciamo passare velocemente il tempo. Ok. Lui sta bene. Perché dobbiamo andare ragazzi a fare la gara. Assolutamente. Il cane dove dorme. Eccolo. Vicino al tuo pasto. Signori. Perché ragazzi è bellissima la nostra Teppei. E me la tengo col nome così. Non mi interessa. Però il canietto ci voleva. Grazie. L'ho appena lodato il cane. Pubblica avviso. Su animale scomparso. E in tutto ciò però Rachel. Ti chiedo di raccogliere tutto. Dovrebbe funzionare. E anche di produrre. Nettare. Non abbiamo più uva. Speriamo il cane torni. Chiedo a Ben di mangiare. Ok. E poi di andare in bagno. E lui è triste per la mancanza dell'amico. Ma tornerà. Tornerà Ben. Tranquillo. Ti voglio bello carico Ben. Perché adesso andiamo a fare la gara. Con il nostro Bri. Quindi. Ti voglio bello bello in forma. Tanto che ha il cavallo. I gene basso. Ok. Allora pulisci gli zoccoli. E. Anche. Cura del cavallo. Spazzola il manto. Poi ragazzi andiamo dritti dritti a fare la competizione questre. Ripeto. Non credo di poter fare chissà cosa. Però. Vediamo subito. Partecipa a una competizione. Io farei quella. Endurance questre. Consigliato 3. Consigliato 3 di resistenza. E siamo al 2. Principiante. 3. 2. 3. Ragazzi. Se ci prendiamo il primo posto. Sono 300 simoleon. Ma ovviamente. Voglio provarci. Quindi iscrizione 100. Ragazzi. Prima gara equestre. Ovviamente starà a noi. Aumentare le skill. Sia di Ben. Che di Bri. Per fare altre gare. Guardate Bri. Che non vede l'ora di andare a fare la gara. Molto bene. Molto bene. Vediamo un po'. Signori. Entra il nostro Ben. Benjamin sta partecipando a una gara dei barili. Speriamo bene. Tanto è rabbit hole. Quindi nel frammento. Io posso anche occuparmi un attimo del giardino. Intanto che aspetto. L'esito. Qua possiamo anche fertilizzare. Ma non ci interessa. La capretta sta bene. Il cane. Spero torni. Prima o poi. E non abbiamo altre cose. Per produrre. Eh no ragazzi. Abbiamo fatto il nettare di tutte le cose. Oltretutto. Fermi tutti. Questo. Di qualità scadente. Lo mettiamo qui. Fatemi vedere. Al volo. Se c'è qualcos'altro da vendere. Per ora no ragazzi. Per ora no. Ma qua abbiamo anche la collezione di rane. Qua addirittura ne abbiamo due. Potremmo anche far accoppiare le rane. Per simole. Eh ragazzi. E per completare il collezionismo. Visto che ormai. Le abbiamo quasi tutte. Quindi. Ci sto pensando. Ci sto pensando. Però. Alla fine. Secondo me. Sarebbe giusto. Metterle nella nuova casa. No. Con un bel po' di spazio. Intanto. Ben. Quasi. A conclusione. Vediamo un po' come va la gara. Speriamo in un primo posto. Qua intanto butto via. Argento. Bel lavoro. Il tuo lacre duo. Si è classificato al secondo posto. Avete commesso qualche sbavatura. Attorno ai barili ma con un po' di pratica e più potere arriverete al gradino più alto. Ora puoi partecipare a gara dei barili intermedio. Va bene ragazzi. Lo accetto. Lo accetto. Vediamo un po'. Abbiamo la prima targhetta del nostro Bri. Dai. Un argento ci sta eh. È la prima. Signori. Non ci possiamo davvero lamentare dai. Mi piace. Mi piace. Miglioreremo. E fin tanto che sono qua io apro anche le scatoline. E c'era un giochino. Chiudi il becco. Lo possiamo dare al cane. Mentre qua apri. Vediamo un po'. Abbiamo tre piume. Sarebbe bello collezionare anche queste. E ragazzi in questo episodio abbiamo fatto davvero un sacco di robe. Ma vi dico che per ora è tutto. Io spero che vi sia piaciuto. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto. Vi ricordo di lasciare un like. Iscrivervi al canale. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Iscrivervi al canale.